Ciao ragazzi, oggi andiamo a vedere come fare la missione Eliminazione chiave della fazione Legion Mi si chiede di completare un contratto di eliminazione bersaglio prioritario recuperare una chiave da un bersaglio prioritario o altrove e infine usare una chiave per aprire uno spazio inaccessibile è chiaro che lo spazio cambia, nel senso che in base alla chiave che troverete dovrete andare in un punto differente Prima di proseguire con la visione del video vi ricordo come sempre di mettere un bel like e di iscrivervi al canale Allora, la prima cosa da fare è andare a selezionare un contratto Eliminazione bersaglio prioritario Eccolo qua, elimina bersaglio prioritario Avviciniamo chiatti chiatti, patiquatti, l'MLM, l'estinole, non tanto l'estilesti E dobbiamo fare attenzione, ovviamente, a non farci spottare Che altro se siete da soli Ok, ha presa la missione Andiamo ad eliminare il bersaglio Ultra 1, siamo sulle tracce di Romero Un contrabbandiere di La Salmas È il bersaglio di un contratto taglia Potete ingaggiare Bene Romero è anche vicino Andiamo ad eliminare il bersaglio per recuperare la chiave Lui farà droppare una chiave e noi la recuperiamo Capo a Ultra 1, bersaglio prioritario a terra Confermate l'uccisione Confermo, è la Romero Accredito denaro in corso Ok Adesso andiamo ad aprire Adesso andiamo ad aprire la location E2, chiave dell'ufficio del trafficante di Tarak C'è da capire, ovviamente Quello è l'ufficio Questa è la zona E2, chiave dell'ufficio del trafficante di Tarak Contra 1, il nemico è in massima allerta Procedere con cautela Ok Dobbiamo trovare Un edificio che possa sembrare un ufficio Insomma Che abbia un ufficio E2, chiave dell'ufficio del trafficante di Tarak E2, chiave dell'ufficio del trafficante di Tarak Cazzo Ultra 1, attività in aumento vicino alla vostra State in guardia Cazzo Questo è un cesso L'ufficio del trafficante di Tarak Cazzo C'è praticamente un esercito c'è qui Un cesso Un altro cesso Eccola qua Ok ragazzi L'edificio che vi occorre è proprio questo Qui indicato sulla mappa Vicino al ponte Ok Vi girate Qui c'è la porta Ok Missione compiuta Dopodiché Fatta la missione Andiamo ad estrarla Io cercherò ovviamente di prendere il veicolo Ma Vediamo L'irradiamento della zona Ultras Ultras 1, qui Dino 4 Siamo in attesa Portatevi al punto di estrazione Ultras 1, Dino 4 rientra alla base Oye Meta ahata